Nel disegno digitale non è infrequente avere la necessità di nascondere, mascherare, parte degli oggetti disegnati. Su Inkscape questo è possibile attraverso due strumenti, il comando clip e il comando mask, presenti entrambi sotto il menu object. Vediamo come funziona il primo. Il comando clip permette di mascherare e quindi di nascondere alla vista parte di un oggetto in funzione della geometria di un altro oggetto. In questo esempio il cerchio rosso fungerà da maschera per il rettangolo azzurro. Per vedere cosa sta accadendo riduco la trasparenza dell'oggetto rosso. È tuttavia importante che l'oggetto che fa da maschera si trovi al di sopra degli altri oggetti. Per attivare il clip bisognerà selezionare entrambi gli oggetti e col tasto destro del mouse o da menu object clip richiamare il comando set clip. Come possibile vedere la parte del rettangolo visibile è solo quella che era interamente contenuta all'interno del cerchio. Per disattivare il clip attivo si potrà sempre da tasto destro del mouse rilasciare il clip. Nel caso in cui le entità con cui lavoriamo fossero delle path sarà possibile anche con il clip attivo modificarle almeno nelle geometrie. E questo lo si potrà fare richiamando il comando di editing delle path, di editing dei nodi. Avremo infatti qui la possibilità di agire sui nodi sia dell'oggetto da mascherare, quindi il rettangolo azzurro sia dell'elemento utilizzato quale maschera, ovvero il cerchio rosso. E' bene ricordare che per avere la possibilità di visualizzare la path della maschera dell'oggetto che fa appunto la maschera è necessario avere attiva l'opzione show clipping path nella barra degli strumenti relativi al comando edit path by nodes. Questo strumento permette di ottenere dei risultati interessanti non facilmente raggiungibili attraverso l'uso dei soliti strumenti quali le sfumature o le operazioni tra le path. Vediamo qui come ad esempio sia possibile ottenere una sfocatura che riguardi solo una parte dell'oggetto e non l'intero oggetto. Ma lo strumento clip e lo strumento mask tornano molto utili soprattutto quando si lavora con le immagini. In particolare, tra le varie operazioni che si possono effettuare con questi strumenti è possibile ad esempio scontornare un oggetto presente in un'immagine. Proviamo a farlo con la celebre poltrona qui rappresentata. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Passiamo adesso al comando Mask. Anche in questo caso utilizzeremo l'immagine della poltrona. Grazie a tutti. Utilizzando la geometria di un'entità, il comando Mask utilizza invece i valori tonali o meglio della luminosità di un'entità quale strumento per determinare la visibilità dell'oggetto su cui è applicato. Proviamo a spiegare. E facciamo una copia per visualizzare meglio quanto illustrato. Applicando questa sfumatura sopra l'immagine quale maschera e per farlo si potrà sempre utilizzare il menu Object Mask Set o come poco fa, da tasto destro del mouse, il comando Set Mask. Ecco, applicando questa maschera vedremo come solo le parti della foto che si trovano al di sotto dell'immagine saranno visibili. e saranno visibili in funzione del grado di luminosità della maschera utilizzata. Ovvero, l'immagine sarà completamente opaca dove la maschera è bianca e sarà completamente trasparente dove la maschera è nera. I valori di grigio intermedi serviranno ad effettuare un passaggio graduale dalla piena opacità alla piena trasparenza. Anche in questo caso sarà possibile rilasciare la maschera con il tasto destro del mouse col comando Release Mask. E anche in questo caso, se le entità utilizzate sono delle path, sarà possibile modificarle almeno nella geometria utilizzando lo strumento di editing dei nodi anche quando la maschera è applicata. Questo strumento ci permette, ad esempio, di creare una scontornatura come quella che abbiamo fatto con il tasto destro del mouse. con lo strumento clip, ma utilizzando una morbidezza, ovvero una sfocatura nei contorni della maschera. Se infatti la maschera avesse i contorni sfocati, o ci fossero delle parti trasparenti o con una minore opacità, questo tasso di trasparenza sarebbe applicato anche all'oggetto su cui è applicata la maschera. Grazie. 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 Grazie.